Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Oggi andiamo a scoprire la posizione esatta del Fortbat numero 65 Che dice che si trova in un set per film a basso costo in un semi interrato Raga, la zona che stiamo per andare a visitare è presente da non so quante season E dovrebbe far parte di uno di quei set cinematografici che vi ho parlato qualche giorno fa nel video mattutino Dove ci stiamo recando condotti confusi, quindi sud ovest della mappa Vedete queste due case proprio a fianco a condotti? Dovremmo visitare questa qui a sinistra, che va sul color grigio Quindi, prima cosa da fare ragazzi, rompiamo direttamente questo pavimento Ecco il Fortbat ragazzi, il numero 65 Vi vado a appinnare ovviamente anche la posizione esatta E eccovela qui Ci troviamo proprio alla sinistra dei condotti confusi come appena detto Raga, lo prendiamo Io spero di esservi stato d'aiuto, se così fosse vi do subito a lasciare un bel like Condividere il video con tutti i vostri amici E soprattutto iscrivetevi se ancora non siete iscritti al canale Noi ci becchiamo in una prossima video guida Un salutone da Martexone See ya brothers Ciao